Negli ultimi anni mi sembra che una questione centrale sia proprio la relazione che gli adolescenti intrattengono con internet, con i videogiochi, col telefonino o smartphone. La questione qual è? Sembra che gran parte della complessità dei problemi che riguardano la crescita degli adolescenti odierni in una società complessa riguardi il telefonino. La scuola si occupa di non farlo entrare laddove ci riesca, i genitori nel momento più disperato privano l'adolescente dello smartphone o del videogioco o della Playstation. A me sembra che la verità sia un po' più complessa, credo che questo esagerato, questo smodato utilizzo ovviamente dello smartphone e dei videogiochi in particolare delle nuove generazioni sia qualcosa che ha a che fare anche con i miti affettivi, col contesto sociale e antropologico dove i ragazzi sono cresciuti. Grazie a tutti.